Benvenuti in Abel. Abel è un marchio svizzero di orologi di lusso che ha sede alla Show de Fonts, in Svizzera. Fondata nel 1911 da Eugene Blum e Alice Levy, la società ha iniziato la sua attività con il nome di Blum & Levy, ma nel 1914 è stata rinominata Abel in onore dei figli dei fondatori, Eugene Blum e Levy. La reputazione di Abel si basa sulla produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati da un design elegante e sofisticato, e sulla cura estrema dei dettagli, della precisione e dell'affidabilità. Il marchio ha guadagnato una posizione di rilievo nell'industria degli orologi di lusso grazie alla sua dedizione alla qualità, alla precisione e alla resistenza dei suoi prodotti. Tra i modelli più famosi di Abel c'è sicuramente il Wave, caratterizzato da un bracciale a maglia ondulata che si adatta perfettamente al polso. Questo orologio rappresenta un vero e proprio simbolo di eleganza e raffinatezza, ed è apprezzato da uomini e donne di tutto il mondo. Grazie al suo design innovativo e alla sua grande versatilità, l'Abel Wave si adatta perfettamente a ogni occasione, dal lavoro alla vita sociale. La collezione Sport Classic di Abel è un'altra linea molto popolare di orologi, caratterizzata da un design sportivo ed elegante, con una cassa in acciaio inossidabile e una lunetta in oro giallo o rosa. Questa collezione è apprezzata sia dagli amanti dello sport che dagli appassionati di orologi di lusso, grazie alla sua eleganza e alla sua grande affidabilità. Abel è anche conosciuto per la produzione di orologi da donna, come la collezione Beluga, che presenta un design curvo e femminile, con una lunetta decorata con diamanti. Questa collezione è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze delle donne che cercano un orologio di lusso elegante e raffinato, che si adatti perfettamente al loro stile di vita. In sintesi, Abel è un marchio di orologi di lusso di alta qualità, con un'attenzione particolare al design e alla precisione. Grazie alla sua lunga storia e alla sua grande esperienza, Abel è in grado di offrire ai suoi clienti prodotti di altissima qualità, con una precisione e una resistenza eccezionali.